L'amministrazione di Castellabate ha emanato una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di quattro lotti di terreno in area PIP nella località annunziata di San Marco. L'assegnazione avverrà tramite procedura pubblica con i criteri definiti nel bando pubblicato in data 17 maggio 2021, consultabile all'albo pretorio del Comune. Possono presentare domande a ditte individuali o società che operano nei settori delle attività compatibili con il bando che non impattino o inquinino il territorio circostante. I lotti variano da un'estensione da circa 2.700 fino a 3.100 metri quadrati e il prezzo stabilito al metro quadrato è di 34,41 euro. La domanda di assegnazione dovrà pervenire entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando in plico sigillato e completo di tutti gli allegati richiesti e dell'indicazione del lotto preferito. Successivamente verrà stilata una graduatoria e si disporrà alla finale assegnazione dei lotti. Entro un anno le aziende vincitrici dovranno richiedere il permesso a costruire. L'assessore delegato al piano per gli insediamenti produttivi Marco Di Biasi dichiara con la pubblicazione del bando abbiamo creato un'importante opportunità per i nostri artigiani e imprenditori e per far sorgere nuove aziende in un'area preposta e pensata per le attività produttive. In un momento così delicato per l'economia anche a seguito dello stato di emergenza sanitaria è fondamentale far ripartire gli investimenti anche attraverso queste iniziative. Per ogni informazione aggiuntiva è possibile rivolgersi all'ufficio dell'area 4 telefono 0974 96 2308 mail a.positano.chiocciolacomune.castellabate.sa.it